Musica Ciao a tutti ragazzi, dall'entro del video vi chiederete Ma che cavolo è sta roba? Ok, ve lo spiego in breve Sono stata contattata da un'azienda che ormai aveva fatto una testa così, lo so È dappertutto, si sta veramente sviluppando in questo periodo soprattutto Ed è Fitti Allora, mi ha contattato e io ho accettato assolutamente una collaborazione con loro In quanto sto seguendo un piano alimentare anch'io Detox O Detox, chiamatela come volete Sto prendendo delle misure per i pasti e per la dieta Anche io, già da prima che questa azienda mi venisse a contattare Sono sempre stata molto curiosa di questo tè perché l'ho visto tra le youtuber più famose L'ho visto tra le blogger più famose L'ho visto su Twitter, su Facebook, su internet, sul mondo praticamente E posso capire se non vorrete vedere questo video Se non vi interessa conoscere questo brand Noi tranquillamente ci vediamo al prossimo video Per chi è interessato, continuate ad ascoltarmi In quanto veramente molte, molte cose da dire Ho messo un po' a fare questo video In quanto quando io devo fare un test di un prodotto Che sia cosmetico, che sia un prodotto vestiario Che sia qualsiasi cosa Un prodotto che devo testare Io voglio farlo bene In quanto secondo me un prodotto da testare ci vuole del tempo Lo capirete dal fatto che Fitti, il mio, inviato dall'azienda È qua E la busta era fino qua Lo sto usando già da quasi un mese Un po' meno di un mese E l'ho testato veramente a fondo Posso dirvi veramente quello che penso io Sul mio canale si parlano di cose che a me piacciono veramente E a me non piacciono veramente Quindi questo video sarà totalmente sincero Non sono né pagata per dire opinioni buone Né pagata per qualsiasi cosa Sono semplicemente una ragazza Cui è stata chiesto da questa azienda Di recensire questo prodotto qua Inviato gentilmente da loro Io recensirò anche il modo di parlare con l'azienda Io mi sono trovata veramente bene Sono delle persone carinissime Vi giuro Sono persone che amano il proprio lavoro Sono persone che si impegnano veramente a Far felice te L'acquirente Ho parlato io con una ragazza Quella che mi ha contattato Ed è stata carinissima Era sempre disponibile Entro massimo due ore Un'ora e mezza Vi rispondevano Calcolando tutte le cose che comunque un'azienda ha da fare Vi rispondevano in modo gentilissimo Mi hanno spiegato un sacco di cose Mi hanno inviato due loro prodotti Che è il Fitberry Di Fit Tea Il Body Detox 28 giorni Questa punta è il Fitberry Come notiamo da qui E dietro c'è scritto un bel po' di roba Detox Tea 28 giorni Quindi dovrebbe durare più o meno un mese Per fare questo tè Ci vogliono due cucchiaini Uno o due cucchiaini del prodotto Dentro quest'altro aggeggino Che mi hanno regalato loro Che mi hanno spedito loro Che oh mio dio Primo è rosa Quindi ci abbiamo Secondo questo Ha un nome specifico Infatti mi hanno chiesto di dirvi un po' di cosine Per spiegarvi ovviamente al meglio Allora Io ho ricevuto il Fitberry Detox Tea Come vi ho già detto E il colino di Fit Tea Che è questo qua È strutturato in due parti Qua dentro ci mettete i due cucchiaini Che io mi sono fatta anche stamattina Me li faccio ogni mattina Da quando me l'hanno spedito È diventato una droga Infatti quando la finirà La finirò Andrò sicuramente sul sito A comprarne degli altri Se loro non mi spediranno altre cose da testare Ovviamente E questo è strutturato in due parti Qua ci vanno i due cucchiaini Si chiude E si può fare benissimo l'immersione 5 minuti 3 minuti Quello che volete Rispetto a quanto forte volete il tè È fantastico Perché io ero drogata di zucchero Per le tisane Ero veramente drogata di zucchero Questa tisana barra tè Senza niente di zucchero Senza dolcificante 0% di grassi Senza zucchero di canna Senza zucchero normale È buonissima È dolce Già di suo È una cosa che Io ci sono rimasta Infatti non me l'hanno detto loro Infatti ho pensato Vabbè Provo a Sentirlo senza zucchero In quanto è comunque Una cosa Dietossificante Allora era meglio Non mettere lo zucchero Ma in generale Nel mondo È meglio Non mettere zucchero Se stai seguendo Una dieta Basilare Non l'ho messo Cioè ci sono rimasta Vi giuro che ci sono rimasta Perché Pensavo che un cucchiaino Dovessi metterlo L'unica cosa Che mi ha consigliato Cioè mi ha fatto provare Mia mamma Guardate che è un po' sporco Ci metto una compressa Di Truvia Che è la stevia Praticamente È questa qui Adesso ve la faccio vedere Dall'altro lato Che è meno sporca È questa qui Ed è al 0% Di calorie Queste sono pastigliette Che premendo Questo pulsantino qua Viene giù Da qui E questa Ne metto una Solo per fare Un sapore un po' diverso Quindi se anche voi State seguendo una dieta E volete provare Questo tè Innanzitutto C'è anche una sorpresina Per voi Ve la dirò alla fine Perché mi hanno lasciato Ovviamente Un codice sconto Che vi prego Di andare a vedere Giù nell'info box Ve lo scriverò Da qualche parte E vi lascio anche Il loro sito Giù nell'info box Ma ve lo ricordo Anche a fine video E Mi hanno detto Di dirvi un sacco di cose In ogni caso Stavo parlando Di questo prodottino Per dolcificare È 0% di grassi Se il sapore Per caso Non vi piace Ma ne dubito Perché questa È veramente La tisana Più buona Che io abbia mai sentito E non lo dico Perché sto collaborando Con loro Sapete che io sono 100% onesta E Questo è il Fitberry Appunto E ci sono dentro Un sacco di Di cose buonissime Di frutta Di 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 spezie Adesso vi dico tutto Giuro Ho troppo Robo da dirvi Allora Questa bevanda Accelera il metabolismo Ed aiuta a bruciare i grassi Più velocemente Pulisce l'organismo Liberandolo Dalle tossine Aiuta a perdere peso In modo sano Associato all'attività sportiva Riduce il senso Di gonfiore alle gambe Ed aiuta a combattere La ritenzione idrica Idrata E regala una pelle Più liscia E luminosa Dà energia E riduce il senso Di stanchezza E io vi giuro Che è una cosa Che io ho notato subito Due giorni dopo È che la mia pancia Veramente Anche il senso Del gonfiore Era svanito totalmente È la prima cosa Che ho detto anche a mia mamma Io non mi sento più gonfia Io vi giuro Che ha fatto subito Il beneficio Lì da me Oppè Allora io vado Da Nature House Che è Una struttura Dove appunto Sto seguendo Questo genere alimentare E Io in genere Ho Diciamo un problema Col metabolismo Che Una volta Perdo 500 grammi E La volta dopo Non perdo Praticamente niente Da quando ho iniziato La mattina a bere Questa Pisana Ho perso Un chilo E 4 Un chilo E Se hai visto Veramente Mi ha aiutato Insomma A detossificare Probabilmente Anche l'organismo E Vi lascio appunto Giù nell'info box Il link Il codice sconto Creato apposta Per voi E Il link Comunque Del loro sito È www.fitty.it Che vi lascio Giù nell'info box Quindi andate a vedere Assolutamente E mi hanno lasciato Un sconto Del 10% Su tutti i loro prodotti Insomma Fate l'acquisto E poi C'è una barretta Alla fine Nel carrello Che c'è scritto Codice sconto Codice promozionale E voi dovete inserire Se vedete questo video E se volete usufruire Del 10% Di sconto Il mio codice Che è Sugarfairies10 Ve lo lascio Comunque giù scritto Nell'info box E ve lo lascio Anche qua In sovra In tensione Comunque scritto Da qualche parte E non mi seguite ancora Su Instagram Mi chiamo Sugarfairies10 Come il canale Vi lascio Il nome qui Da qualche parte Perché lì Parlo veramente Tanto di prodotti Faccio veramente Molte foto E vi arriva anche Prima il codice sconto Perché magari Pubblico prima la foto Lì il video Arriva dopo Molte volte è così E loro sono stati Veramente molto carini Anche mi hanno detto Che se avevo bisogno Per qualsiasi domanda Di contattarli Veramente Sono stati molto carini Io volevo farvi Vedere assolutamente Quanto ho usufruito Di questa Tisana Veramente Vi adoro Grazie per avermi dato Quest'opportunità Di provare Anch'io I vostri prodotti Come vedete All'interno Ne rimane Veramente poco Ma potete Intravedere Dei pezzetti Di frutta Di lampone Di mela Di melograno Di Veramente Buonissimo Ma un odore Di frutta Che è la fine Del mondo Io Una cosa Che posso dirvi È consigliarvi Assolutamente Questa bevanda Quindi fate Anche solamente Un salto Sul loro sito Vi invito ad andare A vedere sul loro sito E vi invito A fare un acquisto Per anche solo Provare una loro bevanda Devo usufruire Del codice sconto Creato apposta Per voi Io vi mando Tanti baci Sappetemi dire Se questo video Vi è piaciuto Se vi è stato utile E con un commentino Mi fa sempre piacere Leggo i vostri commenti Lo sapete E lasciatemi Un pollice in su Se vi è piaciuto Questa tipologia di video Se siete ancora iscritti Iscrivetevi al mio canale Per i prossimi video Alla prossima Ciao